Siamo con Valerio Natalizia, vicepresidente dell'Anie Energia, un'altra associazione che si occupa di energie rinnovabili. Anche a lui chiediamo un commento sulla situazione attuale. La situazione attuale è abbastanza critica, soprattutto per quanto riguarda il presente e il futuro del nostro settore. Purtroppo vediamo che dal punto di vista politico la discussione verde solo ed esclusivamente sul passato. Quindi ci sono una serie di provvedimenti che vanno a minare quelle che erano le certezze del nostro settore. Quindi una serie di provvedimenti che hanno già in maniera, in alcuni casi, retroattiva, sono andati a recuperare dei soldi dagli incentivi spesi. La cosa che ci preoccupa notevolmente è anche questo decreto spalma incentivi perché va comunque a ledere quelli che erano dei diritti acquisiti. Quindi anche in questo caso un intervento che andrebbe a modificare un quadro regolatorio che era stato stabilito nel passato. Questo perché è comunque a nostro avviso negativo, non solo perché va comunque a intaccare degli investimenti fatti, ma dà anche in prospettiva un'immagine negativa del nostro Paese a livello internazionale. Detto questo noi cosa vorremmo che si facesse? Cosa vorremmo vedere nella politica? Vorremmo vedere una serie di provvedimenti atti a garantire il presente delle nostre aziende. Quindi c'è una filiera industriale italiana esistente, c'è una filiera industriale italiana che risente negativamente della situazione attuale, quindi che è in crisi perché vede venire meno anche a livello occupazionale quello che si era creato in questi anni e soprattutto manca completamente una visione progettuale del nostro settore. Quindi provvedimenti a costo zero come la semplificazione burocratica che tutti dicono di volere ma che poi nessuno mette in pratica, noi vorremmo che questi tipi di provvedimenti venissero applicati. Un altro punto che purtroppo non emerge sui media, sulla stampa in generale, ma anche nella discussione politica, sono tutti i benefici che si sono creati attraverso le rinnovabili in questi anni. Parlavo prima di filiera industriale che ha portato ad un'occupazione elevata anche di ragazzi, di neolaureati, quindi personale qualificato, ma anche di una percentuale femminile molto elevata in questa occupazione. Parliamo di filiere industriali parallele al fotovoltaico che sono rimaste in piedi grazie a questo settore e soprattutto parliamo di un settore che oggi potrebbe rimanere in piedi anche senza gli incentivi diretti, quindi quelli del conto energia, se solo ci fosse una comunicazione positiva, quindi da parte anche della politica una valorizzazione maggiore delle rinnovabili, soprattutto per quelli che sono i benefici non solo in termini di filiera industriale e occupazionale, ma anche in termini ambientali. Ci sono studi a livello mondiale che sottolineano quello che è l'impatto negativo del bus dei combustibili convenzionali, comunque delle fonti energetiche tradizionali e ci sono anche degli impatti in termini di esternalità su quello che è il servizio sanitario, in questo caso a livello mondiale, e i cambiamenti climatici. Quindi a noi piacerebbe veramente, finalmente, fare una sorta di operazione verità su quelli che sono i benefici e i costi delle rinnovabili. Presidente, abbiamo parlato della politica, quanti politici ha visto in fiera in questi tre giorni? Non tantissimi e soprattutto mi permetto di dire che l'appoggio e il supporto alle rinnovabili e al fotovoltaico nello specifico è sempre stato quasi casuale, cioè abbiamo trovato dei riferimenti magari in alcuni partiti ma non c'è mai stata una presa forte proprio a favore delle rinnovabili e quindi non c'è mai stato quasi con una sorta di timore nello sposare le energie rinnovabili e quindi pochi e soprattutto abbiamo sentito un po' i soliti discorsi, quindi promesse, slogan, tutti si dicono a favore della green economy, tutti si dicono a favore delle rinnovabili ma poi nello specifico nessuno prende appunto dei provvedimenti seri in questa direzione. C'è bisogno di una scelta strategica forte, c'è bisogno di una scelta convinta che veramente le rinnovabili possano garantire uno sviluppo e rappresentare un'opportunità di sviluppo per l'Italia. Voglio solo precisare una cosa, tutti gli studi a livello mondiale indicano come settore veramente in forte espansione quello delle rinnovabili, quello delle mobility, quello della green economy in generale, quello dell'integrazione di sistemi di storage. Quindi noi dobbiamo veramente cavalcare come protagonisti questa crescita che può portare le nostre aziende a essere forti non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Grazie Presidente.